Ok, eccoci qua, bentornato, ben arrivato per la prima volta che atterri su uno dei miei video. Sono Gian Massimo Usai, fondatore del Trend Positioning Research Institute. E come ogni lunedì, questa è la nostra analisi settimanale dei mercati finanziari americani. Come sempre partiamo dal sentimento di mercato, un dato molto importante che ci dice come gli investitori privati, ma anche i money manager, quindi gli istituzionali, stanno reagendo ai prezzi di mercato e che cosa si prospetta da un punto di vista di interpretazione per quello che è il futuro prossimo tendenzialmente. Dato interessante che i rialzisti sono ancora sotto la media storica, questo è un dato molto importante durante le fasi di ritracciamento perché ci dice che effettivamente c'è paura nei mercati. Quindi tutte le volte che i ribassisti, come è successo nelle ultime tre settimane, di fatto superano in percentuale i rialzisti, sappiamo che c'è paura nel mercato. E questo è molto interessante perché la paura è storicamente un indicatore contraian. Vuol dire che tutte le volte che c'è paura nei mercati e c'è un crollo in atto, è molto vicino il momento in cui il mercato deciderà di riprendersi. Chiaramente non possiamo mai sapere quanto durerà, quando inizierà e quale sarà il momento esatto del minimo di mercato, ma questo ci aiuta a interpretare tutto quello che sta succedendo giorno per giorno. Ricordiamoci che i mercati non sono un business dove è necessario prevedere il futuro, ma è indispensabile, al contrario, interpretare quello che succede giorno dopo giorno. Quelle che sono le informazioni che abbiamo oggi potrebbero essere totalmente diverse o in parte diverse domani, e quindi un buon investitore è colui che prende queste informazioni, le interpreta e agisce di conseguenza, senza la presunzione di poter prevedere il futuro, ma nemmeno senza la capacità e la possibilità di sapere che grazie a queste informazioni è possibile battere i mercati, è possibile fare meglio dei mercati, perché esiste una condizione che è l'unica che possiamo controllare, ovvero il nostro rischio. Quindi tutto quello che è il risultato della nostra analisi ha un solo ed unico scopo, che è la gestione del rischio. E come mi piace sempre dire anche ai miei studenti, se noi ci prendiamo cura del rischio, il rischio si prende cura dei nostri profitti. Vuol dire che tutte le volte che evitiamo di perdere troppo, di perdere in maniera emotiva, di perdere in maniera non controllata, stiamo mettendo a rischio il nostro capitale. Al contrario, tutte le volte che ci mettiamo in condizione di controllare il nostro rischio, sapere esattamente qual è il nostro rischio, non solo in termini di capitale messo a rischio, ma anche di movimento del prezzo, ecco che ci stiamo mettendo invece al contrario in una condizione di prosperità, perché quelle piccole perdite ci permetteranno nel momento in cui il mercato decide di riprendersi, ed è qualcosa che nessuno può controllare, nessuno può prevedere, ma tutti possiamo interpretare, e questo è il dato importante, avremo dei guadagni che andranno a superare tutte le perdite. Quindi anche nel lunghissimo termine il vero lavoro dell'investitore, di colui che comunque decide di investire i propri soldi al mercato, è quello di guadagnare tanto quando le cose vanno bene, e perdere poco quando le cose vanno male. Non è quello di mitigare il rischio acquistando tutto il mercato, perché acquistare tutto il mercato significa prendere il bello, ma anche il brutto dei mercati. Quindi drawdown del 30, 40, 50, 70, 80%, come ne abbiamo visto tanti nella storia. Quindi questo è un po' il dato per quanto riguarda gli investitori retail, per quanto riguarda invece i money manager vediamo un bel 69,46%, quindi siamo passati da queste settimane dove i money manager erano investiti a margine, a questo 69%. Credo che sia ancora un po' alto, la storia ci dice che i migliori ritracciamenti li abbiamo quando i money manager sono sotto il 60, 50% investito. Non è detto che non possa ripartire da qua, chiaramente, il mercato. È un numero basso, quindi sappiamo che è sicuramente più basso rispetto al 103, al 107% che abbiamo visto a novembre, in particolare. Non sappiamo se effettivamente sarà il momento, il punto da cui il mercato ripartirà. Il dato interessante è sicuramente poi, come sempre, andare in realtà a vedere quello che sta succedendo, perché abbiamo visto questo rialzo negli ultimi settimani, in realtà, quindi una settimana tutto sommato positiva rispetto alle settimane precedenti, quando il Nasdaq aveva raggiunto questi 14.931 di minimo, andando a riappoggiarsi su livelli precedenti di supporto e resistenza. Come vedete qua, durante questa fase, avevamo segnalato, comunque all'interno dei nostri servizi, per i nostri clienti, i nostri studenti, di prestare particolare attenzione a quello che stava succedendo nei mercati, perché c'era una divergenza positiva. Il mercato, infatti, stava salendo, ma il numero di titoli sopra la media 50 periodi stava diminuendo, e addirittura si era portato sotto il 50%. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la maggior parte dei titoli a mercato era sotto la media 50 periodi, la loro media 50 periodi, mentre il mercato stava sopra la sua media 50 periodi. Quindi questo vuol dire che stava avvenendo una vendita invisibile, come l'ho definita una vendita da ninja, la migliore delle vendite che probabilmente abbiamo visto, probabilmente, letteralmente, negli ultimi 10, 20 o 30 anni, forse, dove gli investitori hanno iniziato a vendere titolo dopo titolo senza venderli tutti insieme. Ed è per questo che il mercato ha continuato a salire fino a che non c'era più la forza da parte di nessun titolo, perché le percentuali erano scese sotto il 40%, quindi c'era un 60% di titoli sotto la media a 50 periodi, e da lì è arrivata la vendita, veramente da manuale. Situazione totalmente contraria, invece, durante l'ultima settimana, quella della risalita, dove, come vedete, abbiamo ancora il 24%, quindi il 75% dei titoli sotto la media a 50 periodi, ma addirittura il mercato si è portato sopra la media a 10 e 20 periodi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà ci sono piccoli titoli, pochi titoli enormi, quindi probabilmente le mega cap, come Apple, come Microsoft e come altri, che hanno spinto questo mercato al rialzo. Quindi un mercato che sale, ma che è supportato soltanto da pochi titoli. Quindi la domanda è che cosa succederà quando questo grosso elefante cercherà di uscire dalla serratura della porta. Ci sono ovviamente diverse possibilità, o gli investitori inizieranno veramente a comprare anche micro cap, small cap, come spesso accade durante il rally di fine anno, durante il periodo finale dell'anno e l'inizio, in realtà, dell'anno successivo, oppure potremmo vedere un altro ritracciamento di questo mercato, magari sotto addirittura i minimi precedenti, andando a toccare la media a 200 periodi, o addirittura ancora peggio. Quindi dobbiamo prestare particolarmente a questi segnali. Quello che sappiamo è che in questo momento siamo in attesa di un position day, un position day, spiego molto bene nel nostro percorso Trader Raptor, con i dettagli specifici, ma senza addentrarci nei tecnicismi di quello che è un position day, diciamo che è una giornata dopo il minimo di mercato, dove l'indice, in questo caso il NASAC, ma potrebbe essere l'S&P o il QQQ, segna un incremento percentuale importante con volumi superiori alla giornata precedente. Questo è un position day e generalmente, o meglio, storicamente, indica il momento in cui il mercato sta ripartendo. Quindi, come puoi vedere, non si tratta dei minimi, ma si tratta di una situazione generalmente entro 7-15 giorni, a volte meno, in media diciamo tra i 7-15 giorni, dove il mercato ci dà questo segnale rialzista. Ed è il momento in cui noi dovremmo iniziare a comprare. Quindi, se ancora non sei un nostro studente, ancora non sei un nostro cliente, sappi che questo è il momento perfetto per diventarlo. Perché questi sono i momenti in cui noi andiamo quasi o totalmente cash, andando ad incassare i profitti della risalita precedente, quindi questi profitti, questi profitti. Andremo a vendere da qualche parte qua e da qualche parte qua, come abbiamo potuto vedere prima. In alcuni casi vendiamo tutto il portafoglio, in altri casi vendiamo percentuali importanti di portafoglio. Questo dipende da tutta una serie di situazioni che non sto qua a spiegare, ma che sono sempre programmate, decise e definite. E poi inizieremo a comprare da qualche parte in questa risalita. Quindi al momento ancora non abbiamo riniziato a comprare. Abbiamo fatto alcuni tentativi, piccoli tentativi, durante le ultime 5-10 sessioni, più 5 che 10 in realtà, qualche titolo sta iniziando a comportarsi bene, qualche altro titolo invece ci sta dando i primi segnali di difficoltà e questo ci dice che il mercato ancora non è pronto. Ma potrebbe letteralmente passare un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana e forse non di più, dove il mercato inizierà a ripartire. E lì sarà dove inizieremo a comprare i nostri leader. Perché tutti i titoli che verranno fuori comportandosi da leader, quindi con forza relativa, con prezzi sui massimi, con pattern specifici, con volumi specifici, saranno i leader del prossimo ciclo. Quindi saranno i leader che guideranno questo mercato. Sappiamo che generalmente avremo circa 7-8 leader. Ok? Qualcuno in più, ma non entriamo ancora una volta nelle caratteristiche, perché è un lavoro probabilmente complicato da spiegare in un video su YouTube, però sappiamo che ci saranno circa 7-8 leader che guideranno tutta la risalita e il nostro lavoro sarà posizionarci su questi leader. Quindi se ancora non lo hai fatto, ti consiglio fortemente di andare nella pagina qua sotto, al link Trader Raptor, prendere appuntamento con uno dei nostri consulenti, perché questo è il momento perfetto per diventare nostro cliente e capire come noi facciamo, che cosa facciamo, e nello specifico andare a trovare tutti i leader per il prossimo ciclo. Quindi se ancora non l'hai fatto, ti consiglio di farlo, perché da qua alla prossima analisi settimanale potrebbe essere letteralmente troppo tardi, fino ovviamente al prossimo ritracciamento. Quindi questa è un po' la situazione, vediamo anche che nel breve termine il Nasdaq si è riportato, ora voi sicuramente non tutti riconosceranno quello che sta succedendo, i nostri studenti sicuramente sì, vedono questa contrazione di volatilità sopra questi livelli, quindi il segnale di breve termine è tornato rialzista. Quello che stiamo osservando sono questi 400 dollari sul QQQ, che una volta superati, come potete vedere, siamo molto vicini, daranno un segnale rialzista. Non sapremo se sarà un segnale rialzista di lungo termine, che quindi durerà per le prossime 12-13 settimane, oppure se sarà un falso segnale di ritracciamento per poi risalire. Come dicevo prima, è importante interpretare questi segnali. Se il rally di Natale dovesse iniziare, saremo pronti ad acquistare. Se invece dovesse fallire, saremo pronti a chiudere con piccolissime perdite le nostre posizioni, in attesa effettivamente di un altro position day. quindi anche il breve termine ci dice che sta succedendo qualcosa di interessante. Interessante anche, prima di andare a vedere i titoli, che stanno, come dire, mostrando più forza in queste settimane, l'S&P 500, che ha formato questa sorta di capuitendol, che possiamo vedere su grafico giornaliero. non è una capuitendol per definizione, perché dovremmo andarla a vedere su grafico settimanale, su grafico settimanale in realtà abbiamo soltanto due, tre, quattro settimane di ritracciamento, ma è interessante come questo pivot, ovvero questo massimo precedente, sia stato rotto nella giornata di venerdì, qua non lo vediamo, con volumi superiori alla media. Quindi molto molto interessante quello che sta succedendo graficamente. ripeto, vedremo come gli investitori continueranno ad agire, il nostro compito è solo quello di agire di conseguenza tendenzialmente, quindi senza inventarci nulla e il mercato che ci parla. La vera domanda è siamo in grado di riconoscere e capire il linguaggio del mercato? Sempre rimanendo sul linguaggio di mercato, partiamo da Tesla, quindi Tesla, un titolo che ormai tutti conoscete, un titolo che noi come istituto di ricerca abbiamo iniziato a tradare alla fine del 2019, su questa risalita, poi chiusa la posizione, siamo rientrati qua e abbiamo preso praticamente tutto questo trend, eravamo usciti più o meno in questa situazione, quindi ci eravamo portati a casa questo bel trend dai 200 ai 600 dollari e poi abbiamo riniziato a tradarlo, ormai qualche mese fa, abbiamo comprato più o meno su questi livelli e ancora il titolo è in portafoglio. Abbiamo preso alcuni profitti su questa risalita in modo da assicurarci un profitto futuro e abbiamo messo uno stop a break even, vuol dire che male che vada abbiamo guadagnato, non c'è rischio di perdita su Tesla. Ora, quello che stiamo attendendo è un altro segnale di acquisto che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, in realtà qua ci sono delle varie opportunità di acquisto, quindi Tesla è uno dei titoli che stiamo attendendo di acquistare, o non di acquistare, di riacquistare, perché ce lo abbiamo già in portafoglio, quello che vorremmo fare è aggiungere posizioni per raggiungere un position size ideale che è tra il 20 e il 25%, quindi Tesla è uno dei titoli che stiamo monitorando e è uno dei titoli che probabilmente continueremo a comprare nelle prossime settimane se dovesse continuare a comportarsi in questa maniera. Molto interessante invece Ford come si sta comportando, quindi tutta l'azienda, tutta l'industria della manifattura delle auto si sta comportando molto molto bene, non è un titolo che compreremo in quanto non è un titolo growth per definizione, però è interessante vedere la rottura di questa flat base con la forza relativa sui massimi e questo è un titolo che potrebbe continuare veramente a far bene per il prossimo futuro. Broadcom è un altro titolo che grazie agli earnings di venerdì ha chiuso in assoluto positivo durante la giornata anche questo è un titolo molto interessante sia dal punto di vista fondamentale anche se le vendite non sono non sono enormi comunque è un dato che va aggiornato relativamente all'ultimo è un titolo sicuramente molto posseduto dalle istituzioni quindi potrebbe soffrire di velocità è un titolo che ha sicuramente tutto il potenziale lo vediamo dalla forza relativa lo vediamo dal prezzo lo vediamo dai volumi è un titolo che ha tutto il potenziale per continuare a far bene ma che non ha necessariamente la velocità che stiamo ricercando in un portafoglio growth ma potrebbe avere la stabilità invece di un titolo che nel lungo termine continuerà a far bene poi abbiamo Max Linear ancora azienda dei semiconduttori questo è un titolo che stiamo anche in questo caso monitorando piuttosto da vicino la base settimanale non è molto ampia quindi questo comunque destra un po' di preoccupazione ma quello che ci serve essere consapevoli di quello che sta succedendo nei mercati Apple come dicevo prima altro titolo che a sorpresa potrebbe continuare in realtà a guidare questo rialzo che di fatto sta già guidando abbiamo infatti l'industria dei consumer electronics che è stata l'industria più forte durante la settimana precedente e Apple è stato il titolo all'interno di quell'industria più forte in assoluto quindi il miglior titolo all'interno della migliore industria in questo momento quindi un titolo esteso che per noi non è acquistabile si può vedere dove sarebbe stato acquistabile vediamo la solita contrazione di volatilità su questi livelli quindi questo era un momento in cui avremmo potuto acquistare questo è un altro momento in cui avremmo potuto acquistare non lo abbiamo fatto perché Apple non è necessariamente un titolo che vogliamo in portafoglio per alcuni motivi anche in questo caso non approfondiamo il perché che sicuramente non è legato al fatto che non possa salire infatti lo stiamo trattando ok quindi la capacità di guadagnare nei mercati è legata anche al saper dire di no e a sapere perché si dice di no ad alcuni titoli da un punto di vista oggettivo e non soggettivo questo fa tanta differenza poi abbiamo un altro titolo che è Snow anche qua un titolo che stiamo monitorando molto da vicino e che ci interessa avere in portafoglio quindi anche Snow si sta comportando veramente bene nelle ultime settimane così come SeaWorld and Entertainment Consumer Cyclical Sector con dei fondamentali veramente molto molto interessanti anche in questo caso un titolo che è molto posseduto dalle istituzioni e non avrà necessariamente la velocità che stiamo cercando abbiamo poi ecco vediamo appunto guardate come il settore dei Consumer Cyclicals abbia reagito nelle ultime settimane cioè con un mercato in ritracciamento questo è quello che è successo all'industria dei Consumer Cyclicals quindi si capisce molto bene la differenza tra quello che succede nei mercati e quello che succede in questa industria e questo è quello che stiamo cercando quindi qualcosa che si comporti in maniera opposta ai mercati ma non quando i mercati vanno bene quando i mercati vanno male quindi vogliamo qualcosa che sale mentre i mercati scendono o comunque che scende e che perde molto più lentamente in termini percentuali rispetto a quello che perde il mercato Tesla l'abbiamo l'abbiamo vista poi abbiamo Regeneron Pharmaceutical anche qua un'industria molto interessante che è quella del biotech con un titolo che sta facendo molto bene nella prevenzione degli attacchi d'asma soprattutto tra i bambini soprattutto nei bambini tra i 6 e gli 11 anni quindi grazie a una loro tecnologia sono in grado non di reagire e di agire nei momenti di attacco d'asma ma nei momenti in cui che precedono l'attacco dell'asma quindi un farmaco che riduce la frequenza e l'intensità di questi attacchi d'asma ora non sono sicuro che questo sia un titolo che sia pronto ad esplodere al rialzo semplicemente perché la forza relativa è molto in ritardo rispetto ai massimi storici tuttavia è un titolo da monitorare che potrebbe comunque far bene non è detto che non segnerà nuovi massimi la domanda è questo titolo batterà il mercato perché il nostro scopo è sempre quello altrimenti non ha senso fare questo tipo di analisi e fare uno sforzo per cercare di capire come funziona il mercato abbiamo poi clac ancora semiconduttori quindi vediamo che l'azienda dei semiconduttori in realtà al di là di quello che abbiamo visto nel settore dei consumi ciclici è l'azienda che sta guidando è l'industria che sta guidando i mercati l'industria che sta guidando i mercati con tanta leadership al suo interno abbiamo visto Nvidia abbiamo visto MXL abbiamo visto ON abbiamo visto ONTO abbiamo visto tanti titoli che si stanno veramente portando in alto e stanno dimostrando una forza enorme rispetto ai mercati quindi azienda dei semiconduttori è industria quella dei semiconduttori da monitorare particolarmente e ancora AMAT appunto proprio per dimostrare quello che abbiamo appena detto anche in questo caso vediamo questa flat base che si è formata su grafico su grafico settimanale anche in questo caso è molto interessante in realtà il fatto che questi minimi si sono poggiati sui massimi precedenti questo potrebbe essere in realtà l'inizio di un super rialzo per AMAT che porterà l'azienda il titolo ai livelli magari di Nvidia quindi un titolo molto posseduto dagli istituzionali ma che anno dopo anno continua a segnare nuovi massimi e continua a fare la differenza AMAT comunque un'azienda che ha una leadership molto importante nell'industria dei semiconduttori e quindi comunque va monitorata quindi come vedete abbiamo ancora parecchi setup parecchi setup che si stanno formando ma non c'è ancora tantissimo di come dire perfetto è utilizzabile fin da subito ci sono delle cose che stanno succedendo probabilmente servirà ancora un po' di tempo ma vedremo in realtà quello che ci diranno i mercati perché veramente a sorpresa potremmo avere già nella giornata di oggi o in quella di domani un position day che ci dirà ok è il momento di comprare e questi sono i titoli da comprare considerate che storicamente i migliori titoli sono i migliori titoli da comprare sono quelli che emergono nelle prime 3-4 settimane di risalita del mercato quindi queste 3-4 settimane sono il momento migliore per te per salire a bordo di un progetto di un'azienda come il trend positioning research che di fatto va a ricercare questo genere di azioni quindi come vedi non c'è nulla di casuale non c'è nulla di soggettivo non c'è nulla di il mercato sbaglia perché io penso questo no è che cosa sta dicendo il mercato che cosa ha deciso il mercato e quindi agire di conseguenza quindi queste prossime 3-4 settimane a cavallo tra Natale e il nuovo anno potrebbero essere veramente le settimane più importanti per questo 2021 per te per la tua famiglia e per il tuo prossimo step per il tuo modo di investire il tuo denaro e quindi andare a proteggere costruire il tuo futuro sia che stia pensando a una pensione sia che stai pensando a come moltiplicare i soldi che hai intelligentemente conservato risparmiato guadagnato attraverso magari un altro lavoro ok o magari come creare un'altra fonte di reddito non siamo qua per fare promesse del tipo diventa ricco facilmente diventa un trader della spiaggia non è questo che ci interessa non stiamo parlando questo genere di persone stiamo parlando di persone che hanno delle ambizioni delle ambizioni nella vita che magari amano il lavoro che fanno che magari hanno creato già tanto nella vita e vogliono capire come avere una sicurezza ulteriore come avere un'altra fonte di reddito come avere e imparare quelle capacità che ci permettono ora non solo di guadagnare soldi facendo il nostro lavoro ma di moltiplicarli attraverso gli investimenti perché poi parliamoci chiaro storia ci dice che gli investimenti sono uno dei due modi uno dei tre modi devi fare azienda investimenti finanziari quindi mercati finanziari e real estate per moltiplicare il proprio denaro e quindi creare ricchezza se sei qua immagino che tu abbia scelto i mercati come una delle alternative che hai o come l'alternativa che hai deciso di avere quindi mi raccomando se ancora non l'hai fatto prendi un appuntamento totalmente gratuito senza nessun impegno con uno dei nostri consulenti cliccando nel pulsante qua sotto dove trovi iscritto trader raptor e noi ci vediamo lunedì prossimo per la prossima video analisi settimanale ti auguro una buona settimana di trading e a presto ciao da tutto il team ciao a tutti i